Che c'è? Ogni volta iniziamo così che non sappiamo mai cosa dire. Non lo so perché mi lanci degli sguardi come se mi volessi dire qualcosa ma non sono sicura quindi nel dubbio chiedo. Lo finiremo mai questo gioco? Vabbè sì dai. Con i nostri tempi però lo finiremo. Ora acceleriamo il boost. Comunque siamo a metà strada. Infatti ora siamo al giro di boa come si suol dire. E' piaciuta la spiegazione? Capitolo 9. Io e Ashley siamo finalmente riuniti. Ah. Che bello. Telefono. Luis dove sei? Dov'è? Scusami ho fatto un casino. Vieni a salvarmi principe azzurro. Come no? Verrò a cavallo. In sala d'avallo dopo il cortile. Vieni a danzare con me. Che tipo assurdo. Non capisco che vai a semità Luis. Non lo so. Se mi piace o meno. Non l'ho ancora capito. La sala d'avallo. Ecco perché. Io mi chiedo più che altro. Il giorno non si vede niente. Perché? E' una cosa che mi sono sempre chiesto. Quanto andranno avanti? Sono giochi d'artificio? Sì. Eh? Sottolineerei che sono le sei meno un quarto di pomeriggio. Le cinque meno un quarto. Le cinque meno un quarto di pomeriggio. Meravigliose. Non mi ricordo più cosa dobbiamo fare. Qualcosa dovremmo fare. Devi andare verso la sala d'avallo. La sala d'avallo. Bene. Io sono il grillo parlante. Esatto. Il grillario. Il grillario. Rompiamo tutti i vasi perché sì. L'antistress di Leon sono i vasi in questo castello. Esatto. Distroggiamo tutti i vasi. Questo non si può rompere. No no no. Peccato. Ma è un bel vaso quello. Lascialo stare. Diciamo vasi belli e vasi brutti. Ok. Allora. Adesso ci attaccheranno dei cani brutti. I cani del giardino. Ah è vero. Sì me lo ricordo. Me lo ricordo. Io cammino piano. Però non voglio fare del male. Sono solo incompresi. Non sono incompresi. Dici che cammino piano. Ho capito. Una scala. Ho sentito delle cose. Pure io. Sento dietro di te qualcosa. Non so se è Ashley o se... Sarà Ashley. Ashley. Diamo un'occhiata dall'alto. Una leva. Una leva. Abbassa la leva. Oh. Bello. Ehi guarda. Lo stendardo si è abbassato. Ah quindi è importante. Ok. Pensavo fosse solo una cosa decorativa. No mi sa che dobbiamo abbassare tutti. Tipo tre. Per aprire la porta. Ok. Per uscire da questo luogo di inferno. Lasciamolo lì. Mi fatti solo il canuzzo. No no. Serpente brutto. Oh. E che? E che cos'è? Io ricaricarei. Mi sa che... Ma... Ma... Ma l'aveva uscito. Non c'era. Ma è sponato all'introvviso. Che? Che vuoi? E cominciamo così. Ti volevo fare la festa. Ha detto che bello sei... Sei arrivato. Non mi pare proprio. Però... Sono bene. Allora... Adesso ho attaccato un cane infetto dello schifo. Buonasera. Salve signora. Signora, l'è finita l'acqua. Signora, non c'è più acqua da versare, signora. Niente. Imperterrita. Oh, che bello. Ma che una cassa? Mi chiedo che piedi ha per rompere le casse con... Cioè, capito? Non penso che sia legno marcio. Ho capito, però... A livello che si rompe così con una pedata, praticamente. Chiaro. E chi è che gli ha messo le cose dentro? Qualche persona generosa. Me lo sono sempre chiesto. Sento, cani. Stanno bussando alla porta per entrare da qualche parte, ma... Travoletto. Porca miseria. Travoletto. Ma non è il più triste, spazio. Va bene. Ma che bello è che lo sape... Ma sei morto. Io mi sono preso un colpo e non ho capito più niente. Buonasera, canuzzi. Dove sono andati? Non mi dire così. Ma lei dov'è in tutto questo? Ma che ne so. Ma dove sono andati? Sono andati in giro. Erano chiusi nella cellina. Liberi! Eccolo. Ah, escono le siepi. Ecco perché non l'abbiamo visto prima. Vabbè, non ci farei. Sai che è meglio che mi curo subito. Si, curati. Ma ti curo così. Ah, proprio le paniere forti. Le paniere forti. Le paniere forti. Quella cammina vicino ai muri. Ma non ha capito che escono dei muri i cani. Molto elegante, devo dire. Quel vaso sicuro valeva almeno 40.000 euro. Ma dentro l'altro ho una piantina rossa, quindi guarda, è bello. Oh! Un attimo. Non te ne ne è accorta. Eh, esli. Ti devi togliere da lì. Vuotato. Oh! Oh! Scappa, 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 scappa. Passa lo standardino. Guarda quanto è carino. Non puoi ammazzarli da qui sopra. Si fanno vedere, sì. Ah. Hanno fatto la furbata, vuol dire, il gioco. Li nascondono. Due di tre. E il terzo dove? Non è quello, scusami. Quale? Guarda. Uno, due, tre. Cioè, quello dove sei tu? Due, tre. Come faccio a capire quale è quello che ho già abbassato? Perché le bandiere è abbassate. Vabbè. Questa porta si aprirà? Lo scopriamo subito. Si aprirà. Buonasera. Ho visto un corso passato. Pure, io l'ho visto. Simpaticone. Oh! Ce l'hai dietro? Sì, ma Ashley è totalmente inutile, eh. Cioè, è proprio inutile come poche cose. Ma infatti non potrà dire... Attento! Niente, però. Oh, sta facendo il giro. Sta facendo il giro! L'ho visto. Arriverà. Pronto! Non muore in faccia, proprio. In da... Oh! Ti ha detto l'ultimo. Deficiente! Non è che c'è un cane satanico che ti sta arrivando di sopra? È incapacitata, Savo. Ma lo era anche a prima. Amore. Ma va... Ammazzate quello brutto con la flaca brutta. Oh! No! È successo? Che che? Non mi piacciono queste imboscate. Questo è perché tu mi hai detto di avere pietà. Non ti bisogna avere pietà dei cani. Allora, siamo sempre a due bandiere di tre. Almeno. Mi ha dato il check point questa cosa. No, no. Niente pietà per i cani. Andrivano, andrivano. E io a lui aspettavo. Sicuro? Ora ti arriva qualcosa. Che fallo? Oh! Sì! Eccolo! Eccolo due. Eccolo tre. Quello, quello, la. Quello, quello. Dai, di nuovo! Eh, gli lancio la flashbang che devo fare. Gli lancio. Devo. Che dove fa? Eh, niente. Quei cani demoniati, mi hanno capitato. Ah, me ne hanno regalato a lui. Oggi o perché? Sento un brutto rumore. Io pure sento un rumore. Sento un brutto rumore. Non capisco dove, però. Perché? Ah, e te l'ho detto io, e me lo sentivo arrivare. Eccolo con la flora è effettivamente molto brutto. E' schifo. E' schifo veramente. Cosa è stato? Vedi dove sta? Vedi dove è? Ma che ne so. Oh! Ma dov'era? Si è mimetizzato col buio. Dimmi tu. Eh? Non si vede. Ok. Qua è tutto buio. Non si vede. Ashley. Abbassa qui. Aspetta. Io devo abbassare. Perché te ne hai premuto. Se si è aperta la porta di qua, sì. Sì. Bravo. Attento. Attentissimo. Da qui si esce. E questo qua? Scendi di qua. Di qua dove? Di destra. Non c'è. Eh, qua. Dove vai? Sorry. E la terza bandierina è andata giù. L'abbiamo fatto, mamma mia. Possiamo uscire da questo labirinto? Sì, ti prego. Sì. Peccato che. Peccala. Certo, perché capito solo i cani non bastavano. Perché non è? Oh, toto. Vai, dai, dai, subito. Tipo corri ora. Ashley. Ashley, dove c***o? No, no, no. Amore. E ho capito. Corri. Non sarebbe un labirinto se non mi perdessi. Oh. Capito. Vai, stifi, tu. Sì, vabbè. Pure i cani, sì. Schifio. Schifi. Vedi, 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 vedi. Dov'è, dov'è? Fermati. Leon. Resisti. Ci penso io. Che hai i piedi di piombo, questi? Ci penso io. Ma questo qua niente, proprio. È imperterri. No. Ma vai. Ti ha buggato la coltellata. Ok. Vai. Ashley, so che hai il tuo piacere di farti difendere da me, ma se scappassimo una volta... Cane, 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 cane due, cane tre, cane tutti. Oh, io l'ho detto. Una volta tanto. Ashley, con calma, eh. Canuzzo, mi dispiace, ma tu non puoi scappare. Sicuro. Sì, alla grande. Oh. Che fai è questo? Non ci credo, finiti i colpi. Scappa, fatte. No. Ah, ok, li puoi fare, ok. Non sapendo. Ashley. Devi do норм e di lì! Fuori uno. Si sta conti, ma i tesori ci sono. Ma nuzzi. Sento qualcos'altro. Eccolo. Ma io sento qualcosa. Ah, era lui porra. Ahi. Dietro, eh. ma veramente stiamo scherzando ma perchè tu devi stare qua sopra così li tieni a distanza occhio perchè stavo salendo quello cioè sbattiamo le palle guarderò miglia di tesori in questo giardino il mercantello la sala da ballo c'è un piattino rotto ci sono stati ovunque amica mia capitano ovvio intensi un minuto ah c'è un gioco forse c'era l'ascensore amore mamma mia però dai quei medaglioni blu fastidiosi siano orrendi e voglio vederli sparire distruggi tutti i medaglioni blu del corridoio centrale va bene dopo di che l'odore della battaglia ti si è appicciccato addosso amico benvenuto faccio un pulsato esatto ti ho detto questo ripariamo il coltello ripariamo il terbotto mi sa che non possiamo potenziare nulla siamo poveri vabbè in realtà abbiamo un po' di tesori che non abbiamo venduto specchio con pelle rubini la scacchiera io la possiamo vendere altrettanto scarabèo pure la crema viola attinite e basta vero adesso c'è qualche arma nuova mi lancerà questo ci servirà più tardi esatto ci servirà dopo non è il momento più ai soldi o alla tua vita una scelta facile questa è un'arma da fuoco decisamente alla mia vita quest'uomo sa vendere quest'uomo sa vendere io mi sto rendendo conto adesso di una cosa secondo me perché per me sono troppo abituata cosa mi manca? il cuscino vedi ormai sei andata a livello superiore mi hai detto mi sento troppo leggera perché? vedi è un saltino al poligono io lo farei anche perché voglio un'altra volta chiave assolutamente abbiamo una nuova sfida straniero solo per te solo per te solo per te cioè lui quest'uomo lavora per te il fucile può coprire una grossa aria con una sola cartuccia è un vero e proprio affare le facciamo tutte che compense almeno ottenuto punti 3 2 1 vai via vieni questo l'esco ma il cani pirata no peccato no no mannaggia policanuzzi mamma mia difficilotto questo esatto eh dai ah mi va bene ho fatto 44 di 46 bersagli e non ho preso manco ah no una penalità sola no una penalità però mi ha dato due gettoni d'argento cos'altro c'è la 2b col fucile a pompa vai scassali tutti ma che è ah peccato wow no mi dovevo spostare il sapientino però com'è andata oh totora non sto andando altri due gettoni freschi io direi facciamoci anche l'ultima chiaro esatto io e dashi uguali ah peccato mi schio i colpi quando fai questa prova devo ricaricare mannaggia mannaggia dove sono ah ma che c***o ma come l'hai evitato ma come l'hai evitato guarda con il senso di run ah non so se ho fatto ah ho fatto dai bravo Leon esatto anche io prendi tutto troppo mettiamo i tigettoni nella macchinetta poi la pallina cos'è? un po' l'antico con lo scuro bellissimo probabilità bonus creazione di munizioni per fucile a 20% nice cosa mi darà? stiamo schiattando i pirati tutto fonte no un altro da resident evil last of this in due minuti bene andiamo via questo luogo infernale troppo bello e poi questo tema piratesco lo rende ancora più bello bene abbiamo dei medaglioni da rompere nel corridoio adesso vai questa non è la porta da dove siamo entrati no è quella la porta questa non so dove porta la dove porta sala de audiencias mi ricordo questa carrozza ah aspetta vai di là prima aspetta che oppure mi ricordo magari ci arriveremo comunque però però sbirciamo il corridoio cos'è? ci manca qualcosa ci manca la testa no tre teste ah qua c'è lo schema quindi leone capra e serpente e serpente ok e anche qui c'è un'altra quest si vabbè un'altra disinfestazione i ratti hanno infestato un'ora nel cast oh quando li uccido senza non mi do con niente progresso tre quindi ci uno tre ratti da trovare tra corrigione centrale e biblioteca che impressione si topo numero uno non avevo capito che era un topo ti giuro Bridgerton una statua di due serpenti e la testolina ci serve come prendiamo la testolina lo scoprirà una sala da pranzo si è fin qui ma io nemmeno mangerei sinceramente salti qua non succede niente no hai capito succederà qualcosa basta abbiamo perso basta dai dimmi ti assegnano spesso missioni come questa chissà cosa ti bisogna fare ma di solito non ho una compagnia non mi sembra una sala attaccato guarda non so se stai capendo l'interazione ah guarda lei ha due coltelli io ne ho tre sì sì un cristo ascoltando tre coltelli due coltelli una piantina bello le relazioni piacevolissime carino per il tavolo per la sala da pranzo molto bello piantina sembra rosmarino ah il re ha tre coltelli la regina ne ha due tre coltelli un cucchiaio e una forchetta ed è senza pane ok il re invece ha tre coltelli il vino due forchette e un cucchiaio e il pane quindi Ashley si siede da uno di questo lato no questi sono tutti tre hai ragione uno di qua può essere questo potrebbe essere questo Ashley va bene quindi il re invece ha pure la bottiglia di vino ha tutto il re dove si siede il re potrebbe essere ma questo non è il pane questo questo e le un le su le un, due, tre, tre, four infatti siamo uguali Leon Leon ci siamo riusciti grandissimi comunque gli enigmi credo che siamo le mie cose preferite nei videogiochi in generale bellicano c'è niente per noi qui il santo graal vabbè due due basta sono inquietanti questi hai ragione oh non uscire così lo esco come mi pare e rompo pure i vasi te te calcetto ah quindi questo è il corrido centrale non ci dimentichiamo tra l'altro mamma mia un'altra cosa da fare ce la volevano dare questo questo e ancora questo cos'è grazie grazie sempre gradite hai la testa giusta? entra si è quella centrale di sotto ci va il leone e poi ci va la capretta le altre porte ah c'era una porta che non avevo notato ma dovrebbe essere tipo la veneri botticelli esatto le somiglia bello sto quadro una cosa giusta si si e lo sapevo siamo circondati no no vedai io oh 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 dentro di con le ginocchia forti ma veramente no c'è uno stregone ah cavolo no no vabbè voglio destra eh lo sappiamo che è sul balcone no 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 momento di accoglimento così non funziona ora è tornato è tornato ma chi è tornato ma che ne so più dietro occhio davanti occhio di sotto occhio ovunque allora aspetta eccolo lì non vuole morire un caricatore lì sopra amico mio è morto non è morto dove vai cos'è cos'è siamo tuffati vai che ti ha fatto bello bello no l'avevi ammazzato però prima poi come è qualcosa da ferme non è letto dov'è ma no come pure era cieco è l'altro balcone giratino a sinistra salto salto si ti prego eh vabbè ho capito torno subito eh niente no leon fate tipo tappo di botti raggiungiamo un attimo allora perché la mitaglietta c'è la levola se non carica problema non è uno prima domanda poi perché ho solamente una flashbang perché ne hai una posso costruirla mi devo accontentare ci accontentiamo? eh se non avremo altro abbiamo tanta scelta ok munizioni e fucili mi ha potuto graziare oh pezzo di me no andiamo subito al piano di sopra però il problema è questo oh ormai non ho capito questo con la maccherina che schifo ma porca tro... che schia attenzione in qualche modo non è morto è una amica mia non ti vuole riuscire a venire con te chiudi gli occhi puoi seguirmi? per favore per favore vabbè si vabbè oddio oddio schiva tu non so che cosa schivare no vabbè ok 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 vai 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 lo frego è qua? si guarda dov'è merdita che aveva un muore adesso mi sa che non è stata un'ultima idea mi sembra colpita cecchino lo devi ammazzare da terra non te ne puoi andare perché altro perché non mi segue la cosa buona è che è abbastanza piena di atti di munizioni mi sento guardato curarsi curarsi subito la prevenzione prima di tutto allora dovrebbe essere un altro balconcino esatto mamma mia amore sente male però allora allora vedi dov'è lascia stare quello non ce ne puoi venire anche in questo momento io vorrei salire su ma c'è no quelli con i suoi no non puoi salire su perché comunque lei rimane giù da qua non ci provare ma vedi vi ho fatto i giri due secondi e già la parata del signore ho fatto dove sei? no nel nostro balconcino bella madocchia però no no ma Tu hai scelto la modalità estrema Ricordatelo Non hai più munizioni di niente No però Fai tutto Cosa faccio? La cosa più forte in assoluto che hai Ricordati che lei è Guarda dove Bellissimo E non mi fa puntare Oh Mamma mia Un inferno Ma che vuole questo? Vuoi battere il tango E' arrivato per ultimo Stiamo andando dalla sala d'abballo Ma che favore Sta a posto Ma poi ogni 10 secondi Dov'è Dov'è Non è più niente Dovrei fabbricarle Ti prego No 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 Corri 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 Dove sta andando? Fermalo Che cavolo Che cos'è? Chi è? Chi c'è? Puoi entrare e chiudere la porca? Grazie Sto sudando Sto sudando Dove va lei? Che fa? Nel panico quello Mi sto Ti giuro Mi sto stressando Non so cosa sta diventando Occhio perché non ho scherzo Non è morto E' morto Abbiamo finito? Tutto a posto? Non sei ferito Dentro e fuori Dentro e fuori Nell'anima proprio Nell'umore Stiamo scherzando? Tutto per quella testolina Tutto per quella testolina di capra Allora sali dove c'era lo stregone Magari c'è qualcosa che si può prendere Tutte cose Basta C'è altri medaglioni Ah guarda C'erano dei modi per bruciarli Che non ho mai l'occhio vigile No ma più che altro Dopo che ti arrivano Tutti insieme contemporaneamente Tutti insieme appassionatamente C'è qualcosa in questa libreria Ah Almeno Diamante giallo Bello Mi apprende una capretta E andiamo via Andiamo via Dici perché ogni volta diciamo Potremmo registrare due capitoli in un video solo Come? Come facciamo? Che già è tanto se riusciamo a farne uno La testa di capra Cos'è? Ah Mi sta aggraziando Mi sta dicendo Tieni 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 Oh Ma veramente Eh no Chiaro Scusa Sono scivolato C'è più Che è? Che è? Schifo Che schifo è? Si liquefanno Infatti Leon prendi un'armatura Puoi usarla come giubbotto antiproiettili Ha senso? Un po' fuori moda Per i miei gusti Già Io c'ho il giubbotto antiproiettili Deve dire Ti starebbe molto bene Grazie Mi fa complimenti a profusione Certo Io ho paura che si svegliano sti cosi Piccola chiave Piccola chiave Piccola chiave Grande tesoro E lui? Tu sei diverso E lì c'è un leone Il gioco sta caricando Si rompono queste Mi sembra troppo facile che tu arrivi lì Non mi sembra per niente Tu resta lì Ok Ok Ah forse ci fanno la grazia Dai Non so più cosa aspettare Una granata potente Esatto non una granata È potente proprio Intanto prendi la testa Senti Fa paura Te l'ho detto io Te l'ho detto io perché No Sì neanche io ci posso credere Posso credere Sì Ma io non ho messo i I Come si C'è la plaga Ma Alleluia Ma che stifo C'è questo per farci meglio Comunque la plaga Che muove anche le armature Ecco Cioè prende il possesso anche delle armature Ciao No Oh oh Questa è la schiena si piglia Ma che cavolo Darsol Oh stavo dicendo la stessa cosa Ah vai 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 Scannalo Vai 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 Va bene così Mettiti al sicuro Signora una volta che Ashley Siente No no Ashley no no Stai a po' Tutto a posto Mettiti al sicuro Oh vai 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 Nooo la è bella C'è l'ultimo Mi sembra il final boss Sì Io ho abbastanza risorse per costruire una granata stordente Sì Questa cosa che non riuscivo nemmeno a parlare No no È la prima volta tra l'altro Con questa serie Eeeh Ma vai Cioè non Io non riesco a dire niente Ok L'ultimo Croccante Eeeh Che schifo di rumore Che schifo Oh Chia lo posso fare Che tengo una fortuna Dai 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 Ma Sì Stai bene Sì Buonanotte Cavalieri Ma Beh Scendi Opla Wow Sicuro di star bene Ti sei imbruciato No Grazie dell'aiuto Sei stata brava Non potete passare Allora Dove siamo Io mi sto perdendo Ok Non mi fiderò più di un cavaliere No è un ratto Un ratto Esli Tu non sei il ratto Oh Ma post Ma che fai Perché sei Oh Volevo evitare di spiegare un colpo su un topo Ho capito Dispositivo cubico Un dispositivo cubico Che andrà a posto Un loculo cubico Un loculo cubico Non mi fiderò chi di una statua di cavaliere Che glielo ho detto Anche quando le vedrai nei musei Soprattutto Che c'è che succede Non è molto bello Rispetto ai altri Lasciano stare Non li svegliare Vabbè Ah ok Sono ottenuti Ora hai le due teste Ma Mi mancano i medaglioni Esatto E anche un ratto Ti manca Perché sta di fatto Che tra le mani Siamo andati in biblioteca Esatto Ma dov'è la biblioteca E che cazzo che sia questa scala qui E allora No Io penso invece che sia Mettendo le due teste Che magari si apre un'altra stanza Però lì c'è un medaglione Ah bello 3 di 6 3 di 6 Dove sono gli altri Sarà grande quest'area Eccoci qua Oh Le scale Le scale Stai dietro No Corri Vai Oh Non te lo fanno fare No Lento John Wick Occhio occhio Sticcalo Bello Bello Perché non me le fa fare in game Ste cose Ma è bello Dai Non voglio farle io Cosa giochiamo come lei Hai ragione Non scappo Aspettami John Notge Non Chaha Wow Tres Un 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 Grazie a tutti